Salve, sono Sergio Lanza e vorrei mostrare come ottenere sul violino un particolare tipo di sonorità, una sorta di fruscio, un rumore bianco e come passare poi da questo tipo di sonorità al suono pieno e modularlo. Innanzitutto bisogna partire dall'arco che non va tenuto così ma va preso così. L'arco va tirato obliquamente rispetto alle corde, quindi anziché in questa posizione così, tirando così e stoppando le corde eventualmente si ottiene. Questo tipo di suono. Il passaggio graduale si può avere si può anche giocare tra la tastiera e il ponticello naturalmente. Sentite che il fruscio diventa più scuro o più chiaro a seconda se si toccano le prime o le ultime corde e anche giocando tra tastiera e ponticello. Ok.